ciao raga benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui attrezzata dei miei trucchi che mi tocco con voi come vedete dal titolo del mio tablet perché ovviamente non avendo uno specchio devo attrezzare nel bagno serviva e quindi non ho potuto registrare in bagno infatti sto in un'altra stanza ma molto probabilmente i nuovi video nuovi video usciranno saranno tutti quanti concentrato in questa stanza non stiamo pubblicando infatti non ripeto non stiamo perché neanche nell'altro canale stiamo pubblicando video perché non abbiamo la linea wifi e quindi ci stiamo arrangiando con il cica e quindi arrivare un video con il gica e molto ci prende molto internet è vero che ne abbiamo tanti però servono anche le altre cose e quindi questo è l'apparenza che volevo fare non ho detto l'inizio ma va bene lo stesso detto questo quindi oggi cosa ne uscirà perché ho detto giusto per registrare un video per fare qualcosa tutti quanti insieme e quindi questo è raga allora ci sono attimo il tablet così vediamo come si vede ok dovrei mettere qualcosa dietro ok così va meglio il sistema del tablet così così in modo in modo in modo in modo che registro anche d'accordo se avete una tranquilla allora ovviamente inizio sempre dalle basi quindi spugnetta per la base per il conto di vita allora ho sempre sbagliato a fare una cosa praticamente non sbagliato facevo sempre il contraria così vivendo ora visto che me lo sono ricordata mettiamo prima il correttore coltore è veramente uso sempre questo qua con questo mi trovo e poi dopo il fondotinta infatti invece non trovavo mai poi riflettivo io ho fatto il nuovo quello e poi l'altro bene iniziamo con il fondotinta io vedo quando lo metto a cuore allora raga sto spandendo tutto il fondotinta ci diamo dopo il fondotinta ok raga ho finito il fondotinta questo è il fatto che non stiamo pubblicando nei tik tok di molte storie e niente perché c'è dobbiamo aspettare che ci riattivare la linea sotto in albubi capito comunque se la cipria è sempre la solita per l'ombretto questo qui sta qui quella c'è che avevo nell'ultimo video questi colori qua mettiamo sto qua che è naturale anche se dovrei do sindaco qui comunque è uno specchio dimenticato allora volevo dire anche scrivetemelo nei commenti se ma se vi piace se volete che faccio una motivo quindi queste cose qua praticamente un blog qualsiasi altra cosa scrivete o meno nei commenti così io la registro la pubblico ovviamente la faccio il giorno prima il giorno dopo la pubblico ok la matita sempre la nida c'è praticamente un trucco meglio con la tablet che con lo specchio da l'ora di saremo altra zona di questa raga un anno di paura non si sprede in giù ma veramente c'è non se ne può più di questi fatti allora il mascara è sempre con la della Kiko se volete altri generi di video ditemelo così io li faccio se mi piace a altri generi eccetera perché a me sinceramente mi piace a altri generi però vorrei sapere anche un parere vostro mi temo che prendi i commenti così si organizzano ovviamente iscrivetevi su tutti i social seguitemi su Instagram o su Facebook giù in descrizione vi lascio tutti i link eccetera tutti i nomi ovviamente questa raga che volevo dire più ah mettiamo questo colore qui ovviamente perché visto che mi piace e ecco ora c'è sì io dovrei scendere raga fatemi sapere se la vedete giusto questa cosa della zona corsa oppure no io non l'avete perfetto effettivamente non l'avete lo più bene quindi raga e se volete che parliamo di un altro argomento se volete che porterò altri argomenti scrivetemelo giù nei commenti che io li porterò molto soprattutto in questo periodo che stiamo in quarantena faremo molti video anche se non ne dobbiamo fare tutti i giorni ma uscirà più di un video ovviamente e da ora sarà più attiva anche sui social e su TikTok eccetera tempo che riatireranno un po' la linea e questo raga questo tempo qua quindi che dirvi raga se il trucco vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e andate mi insieme su tutti gli altri social e un bacio e al prossimo video